Siamo qui in Euroshop per presentare il nostro nuovo brand BlueDoc. BlueDoc nasce come General Contractor nel mondo del retail per raggruppare i vari brand dell'azienda che attualmente vivono come realtà distinte per poterle racchiudere in un unico referente unico. Partiamo come prima azienda del gruppo, il sistema Think Inside, sistema di tracciamento del carrello e dei trolley all'interno del punto vendita. Il sistema si basa su una tecnologia composta da un tag che viene posizionato sul carrello o sul trolley che comunica con un sistema di antenne posizionato all'interno del punto vendita che ci permette di avere dei dati che ci possono fornire posizionamento all'interno del punto vendita in tempo reale del carrello. Heatmap, analytics vari in modo da poter dare un feedback al cliente di quelle che sono le dinamiche dei flussi e le zone privilegiate all'interno del punto vendita. Successivamente ci spostiamo nella zona più centrale del nostro stand dove abbiamo fatto un allestimento della parte di MS Systems. MS Systems è distributore per l'Italia del marchio Modern Expo. Modern Expo si occupa di tutta quella che è la parte relativa alle forniture dell'arredo al punto vendita, quindi partendo dal discorso scaffale, passando per il freddo, passando per le casse, passando per il locker, tutto quello che può essere inserito all'interno di un punto vendita per completare l'allestimento. Un'occasione importante per noi in questa fiera è quella di presentare il nostro nuovo sistema di cancelletti brandizzato Blue Dock, in modo da poter avere una gamma completa per la fornitura di tutto quello che è il materiale necessario per l'allestimento del punto vendita. Partner principale del gruppo Blue Dock è il marchio Bertoldi, marchio storico per la grande distribuzione legato al carrello spesa. Bertoldi nasce come distributore del marchio Caddy, da più di 65 anni sul mercato, quindi è la nostra azienda di punta associata a Bertoldi sul discorso carrelli. Abbiamo un altro marchio che è Filo Market, con questo marchio ci permette di coprire tutta quella che è la richiesta del mercato per quanto riguarda carrelli e trolley. Infine abbiamo il nostro partner tedesco Pro Shop che ci segue per quanto riguarda la parte di installazione, servizi post vendita, installazione e manutenzione del sistema Gatekeeper, sistema che permette di evitare il furto dei carrelli all'interno dei punti vendita, va a lavorare con delle serpentine posizionate sotto il pavimento oppure sotto l'asfalto o comunque all'esterno del perimetro del negozio. Questa serpentina va a lavorare sulla ruota frontale del carrello bloccando il sistema al momento in cui ci avviciniamo al perimetro. Grazie per la visione! Grazie per la visione!